Iniziamo il test drive di questa Fiat 500 Lange Hybrid. Ha fatto tutto il check, tutte le spiegi sono accese e tutte sono regolarmente spenti. La vettura ha percorso 32.800 km. Vediamo che è ben allineata, perfettamente allineata, anche in frenata. Vediamo gli abballamenti. Si è a comportare benissimo sugli abballamenti, nessun rumore inusuale, gli ammortizzatori ottimi, vettura molto maneggevole, confortevole, un'ottima citycar, specialmente con libri per le città come Roma. Proviamo una buona frenata. Ottimo anche i freni. Adesso proviamo tutte le marce. prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. cambio perfetto, innesti ben precisi, frizione morbida, anche in scalata. bene anche la retromarcia. Direi che è tutto in ottime condizioni, vettura semi nuova proprio, pari al nuovo. Allora, come accessori abbiamo vedri elettrici, specchietti elettrici, vedri elettrici, comandi al volante della radio. Mettiamo il mute. Abbiamo anche il cambio stazioni da qui. Il comando del telefono, i comandi vocali. Sintonizza su FM. Dica il numero della stazione che vuole ascoltare. Radio 1. Sintonizzazione su FM Radio 3. Radio 1 Radio 3. Ok. Poi abbiamo qui telefono. Non trovo nessun telefono collegato. Colleghi un telefono e riprovi. Ovviamente va collegato. Quindi abbiamo l'audio, i media, che dobbiamo sempre collegare qualche media o abbiamo le prese USB. il telefono. Connect. Ecodrive Live. Informazioni audio. Balance dello stereo. Le impostazioni. E i dati della vettura, delle distanze. Abbiamo. Ventilazione. Lumatizzatore. Scendiamo e accendiamo. Spostamento di circolo e lo spostamento dell'aria. Spergiamo le posteriore. Spergiamo le posteriore. ASR. Tutto perfettamente funzionante. fari e vernice ben lucente linee perfettamente parallele non ci sono segni particolari pannello con i comandi volante in pelle con i comandi al volante cruscotto un car play sedile guidatore piccola riparazione da un centimetro equipaggiata di 185 55 quattro cerco in lega alti due di destra 6 e 8 possedio di destra 7 e 6 posterio di sinistra 8 anteriore sinistra 7 e 1 avendo il vano motore confermo l'integrità della vettura tutti attacchi originali nessuna riparazione con manumissione il vano motore è ben asciutto in linea equilibrato confermo l'ottimo stato della vettura in linea con l'anno per il suo chilometraggio 30.000 km 30.000 km a Grazie a tutti. Grazie a tutti.